senti ma quanto figo sei su serio quanto sei figo ho detto figo quanto sei figo te non sei non so perché le mie amiche mi chiedevano chi sei allora ma chi è cosa fa è un mafioso visto che fuma sigaro a non lo so la mentalità e io dicevo no non ha niente a creare quanti anni ha io dicevo 50 non lo sapevo non lo sapevo eh sono troppi 58 secondo me no caspita comunque sei passato come un mafioso volevo detto volevo dire che sei un cubano che sei arrivato in italia che residenti in italia un sigaro c'è uomini dicano che è brutto donne dicano un'altra cosa no perché è sempre così i uomini sempre dicano no è brutto no e donne dicano un'altra cosa donne vero sai che ti ho filmato lo sai che ti ho filmato io ti ho filmato ma scusa metti un po' la vita a quelle donne la mamma mia a donne piace vedere qualcosa di bello che io ho toccato ieri sera due volte ma non ce l'ho ce l'ho solo te io chi è maurizio paolo a un cinghiale faccio filmato che si spaventano è già la tristezza laggiù in serbia in croazia io faccio vedere delle cose belle scusa faccio un favore a umanità insomma oh mamma mia sei famosa per caso non si possa perdite niente beh dai adesso smetto eh fra due minuti smetto guarda che non te lo cancello sono capace ti brucio il telefono ma tu sei capace di far tutto? guarda che ti metto quel telefono da qualche parte che non lo usi più aia spegni quel caso di telefono dall'altra parte metti qualcosa che mi piace sinceramente parlando spegni quel telefono ho già spento a dirla in frigo e prendi forte di qua della sua fresca perché c'è forza aspetta ok ok ok